Forse vi starete chiedendo cosa unisce un gelataio, un consulente, due impiegati e uno studente. Eravamo cinque amici con una gran voglia di cambiare, di accettare una nuova sfida e di innovare. Ed ecco che un giorno ho avuto un'idea, un'idea semplice ma innovativa. Ne ho parlato con gli amici e ci siamo detti, proviamoci e fondiamo la nostra startup. E poi? Poi abbiamo partecipato a un bando della BCC a favore delle giovani startup innovative. E ci siamo detti, se fare innovazione significa pensare ad un prodotto nuovo, smart, tecnologico ed utile per il mercato, allora ce la possiamo fare. Ed eccoci qui. La BCC ci ha dato non solo un finanziamento per partire, ma anche uno spazio fisico dove lavorare e sviluppare il nostro prototipo. L'obiettivo è di renderlo un oggetto quasi scontato da trovare nelle nostre città. Siamo volati fino a Las Vegas per presentare il nostro prodotto al CIS, la Fiera Tecnologica del Futuro. Abbiamo ottenuto preordini da grandi compagnie internazionali, Canada, Stati Uniti, Emirati Arabi e Nord Europa. Ci siamo! Tutto questo in un mese e chissà cos'altro ci aspetta.